Salve a tutti, sono Mattia Giordani, sono la comunicatrice del gruppo Macaco, dell'equipo Macaco, che lavora all'interno di Museo Mix. Il nostro terreno di gioco è importante ricordare da dove siamo venuti. Il nome della nostra equipa, appunto, Macaco, è dei nostri tre personaggi che andremo a analizzare all'interno del museo, cioè Carlo Mael, Pico Cavalieri e Alda Costa. Io sono Alessandra Bertagnone e sono il programmatore. Io sono Marco Picozzi e sono un maker. Io sono Anika Misetto e sono la mediatrice. Io sono Aura Raiacone e sono la designer. Io sono Eleonora Sassi e sono l'esperta. Io sono Francesca Druetti, comunicatore. Noi siamo il gruppo I Fenicotteri e lavoriamo sulle storie di persone normali che hanno fatto cose straordinarie. Paolo Marcolini, mediatore. Greta Negrelli, designer. Valeria Ceregini, contenuti. Giulio Gannoni, maker. Iosto Chinelli, programmatore. Ciao! Noi siamo la squadra Hippopotamics del Museo Mix di Ferrara e ci siamo occupati del remixare il museo attraverso il tema Dal popolo può rinascere una nazione. Simone Basani, mediatore culturale. Tommaso Gabrielli, contenuti. Serena Giaconaro, designer. Pietro Fabri, programmazione. Il sesto componente del gruppo, Mirko Vacchi, è il maker ed è impegnato a realizzare il nostro progetto. Grazie a tutti.